Ciao da Marco e con il video di oggi ti apriamo le porte del nostro Sharket Lab. Questo è il nostro laboratorio interno dove progettiamo, facciamo stampi in prototipazione rapida ed eseguiamo i controlli di qualità per la nostra zanzariera. A proposito di test di qualità, adesso vi facciamo vedere come verifichiamo che la nostra rete sia idrorepellente. Cosa significa? Che non si inzuppa e non collassa, cioè respinge l'acqua piovana garantendo una durata nel tempo e la rete non si rompe. Adesso ti introduco Leonardo, il nostro responsabile qualità, che ti farà vedere appunto come certifichiamo la nostra rete. Preleviamo lo stesso campione di rete su cui abbiamo effettuato il test della rigidità e andiamo ad applicarlo nel macchinario che testerà l'idrorepellenza della nostra rete. Preleviamo 250 ml di acqua e andiamo a versarli nell'imbuto che simulerà la nostra pioggia. Continuiamo il test dando un colpo di martello per vedere l'acqua residua che rimarrà sulla rete. Come avete visto la rete Sharknet respinge l'acqua e garantisce una durata nel tempo superiore a tutte le altre zanzariere. Ciao! 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 Grazie a tutti.